Abbiamo deciso di spendere 100.000 euro a favore del commercio della città e l'abbiamo previsto nel bilancio di previsione 2016. Confermiamo oggi questa scelta mettendo in atto un meccanismo che ci consente di farlo in concreto. Tutti gli operatori che intendono aprire una nuova attività o migliorare quella che già esercitano possono contare sul nostro sostegno. Di norma lo fanno attraverso un prestito che gli istituti bancari concede loro. Sovente si rivolgono ai confidi delle diverse associazioni di categoria per ottenere la garanzia di confidi nella copertura del prestito che ottengono dall'istituto bancario. Noi intervenendo insieme a confidi, il soggetto che selezioneremo col bando che pubblicheremo a breve, sosteniamo le spese di avvio della pratica che l'operatore ha con i confidi nel momento in cui decide di effettuare l'investimento tramite loro. L'aiuto è di al massimo 2.000 euro, arriva al 70% delle spese, le spese sono quelle di istruttore, di apertura pratica e così via, e può non essere un elemento assoluto rispetto magari all'entità dell'investimento che si effettua, ma è un segnale forte di incoraggiamento perché di fatto l'operatore viene alleggerito da spese che altrimenti si troverebbe a sostenere. E in più, con questa collaborazione, non trattandosi di un aiuto a persona ma di un rapporto con confidi, puntiamo ad ottenere da confidi migliori condizioni per gli stessi operatori commerciali che loro si rivolgono e agli istituti in termini di tasse applicati. Quindi avremo con questo intervento un triplice effetto positivo su chi decide, in un momento in cui il commercio riprende ma ha ancora tante difficoltà, di investire su se stesso e sulla nuova attività o sull'attività che conduce la terra.